oppala buonasera raghi buonasera benvenuti benvenuti al martedink episodio 29 martedink con mastink mastink ma che bello assonanza assonanza tutto il bello rimone carino suona bene bene una bella presentazione dice un po chi sei quanti anni cosa fai sono mastink in arte andrea per gli amici e niente sono un ragazzo che viene dalle arti marziali e da lì è nata la passione col mondo dei tatuaggi e l'arte tra virgolette giapponese che anche se col mio stile non c'entra praticamente nulla diciamo che è nato tutto un po come un gioco sono diciamo un paio d'annetti che tatuo faccio prediligo la linea molto 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 fine magari ciò che mi rappresenta di più su uno stile floreale con posizioni di fiori che vanno a giocare con i lineamenti del corpo e niente e basta quanti anni hai 25 anni 25 anni raga giovanissimo se uno ti segue sui social cioè vede comunque sei sempre presente e quindi è una cosa ma ti dirò il social per me è proprio una cosa quotidiana quindi io mi sveglio faccio le mie cose in automatico parte ok faccio la storia faccio quest'altro non sto a pensare non sto a fare quindi prendo giro faccio una storia mi sveglio faccio una storia col mio gatto faccio la storia col gatto fine parto arrivo in studio arrivo in studio magari mi faccio due tre storie mentre disegno mentre quant'altro però sono tutte cose molto si blanda la leggea si fatte fatte proprio per perché arrivino nel senso se faccio una cosa tutta studiata dietro magari una persona non capisce tutto ciò che c'è dietro quindi io faccio una cosa giusto per arrivare alle persone ok vuoi essere real a tutto tondo è molto figa esatto va bene se vogliamo iniziare ti butto già lì un po un po le robe un po più saliente spara voglio sapere proprio da te come nasce la tua passione per un tatuaggio cioè tu mi hai detto sì arti marziali ma da arti marziali a farlo di lavoro c'è un abisso c'è un oceano no quindi faccio un po' totalmente ma allora è iniziato ancora prima delle no vabbè in contemporanea delle arti marziali e ho iniziato a tatuarmi quindi ho incominciato a frequentare studi tatuaggi ai tempi dicevo ok questo mi piace mi piace l'ambiente non avrei mai pensato nella vita di farlo come lavoro mai e poi mai perché veramente dicevo c'è ancora prima di provare avevo la paranoia di dire che faccio una cosa rimane per tutta la vita su una persona e questa cosa qua mi andava in piena paranoia ma totale 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 e poi con gli anni come si può vedere penso che ho passato parecchio tempo in tattoo studio senza tatuare e quindi ho conosciuto il mio maestro diciamo che ero che saluto che in poche parole ma mi ha trasmesso questa passione a tal punto da dire ok provo provo prima linea tirata su di me tra l'altro potete vederla ce l'è ancora questa la ragnatela il cuoricino non è andata male visto molto di peggio su altri amici se pensiamo se pensiamo che era un 3 e sembra un 9 si è bella spessa in effetti però vabbè diciamo che vabbè partita così e da lì basta da lì è tratto proprio già disegnavo di mio ma disegnavo molto a livello base da lì ho visto che mi piaceva ho intrapreso un piccolo percorso tramite un'accademia e allora da lì conoscenza quant'altro partito tutto si vuola un cazzo è bello bello tutto ma quando cioè se volessimo collocarlo a livello temporale quando è che nasce sta cosa nel senso qualche anno fa cinque anni fa sei anni fa novembre 2019 mi sembra molto recente molto fresco cazzo molto molto fresco e cioè ragazzi vuoi pensare comunque cioè sei già comunque bello piazzato a livello comunque anche di lavori impegni la gente che ti si pronota eccetera cioè è pazzesco che comunque sia partita così tanto c'è così poco tempo fa così poco sì però se bisogna pensare magari prima di iniziare a tatuare ero molto molto conosciuto nel mondo del tatuaggio perché ero molto tatuato quindi avevo tante conoscenze ok poi avuto una buona base perché comunque mi hanno fatto subito un corso quindi non sono mai partito senza sapere cosa facevo ho iniziato mi sono informato prima di provare quant'altro ho fatto un corso diciamo dove mi hanno insegnato tutte le basi e poi sono partito cazzo sono partito a mille dici un po quello che fai adesso dopo c'ho già qualche altra domandina da proposti però ci vuoi iniziare dicendoci quello che tatui adesso proprio se dovessi etichettare il tuo stile so che non è mai bello farlo però fa il line linee fini tutto io uso praticamente solo un ago da 3 per 0,25 per tutto 90 per cento 99 per cento dei lavori e per il restante uso un 1 da 0,35 quindi chi vede i miei lavori comunque lo si nota io prediligo totalmente una linea fine in qualsiasi cosa faccio cioè devo fare un avambraccio o devo fare una scritta piccola io il 3 è il mio ago proprio quello certo certo va un po' in contraposizione con quello che in realtà è il tuo stile non la tua estetica nel senso che se uno guarda te comunque vede un bel manzo un mastino appunto tatuatissimo bello perché questa scelta più che scelta allora personalmente che mi esprime di più a me come persona magari o che mi piace vedere sul mio corpo è uno stile totalmente diverso da quello che faccio io quello che faccio io è semplicemente portare ciò che mi piace fare su carta portarlo su pelle se io disegno ho sempre disegnato con matite e bic per dirti ok mi trovo molto meglio utilizzare un ago fine piuttosto che un magnum perché è molto simile anche il proprio la gestualità dei movimenti o comunque a linea mentale diciamo è molto simile la questione tra utilizzare un disegno o con micro con le micro punte e poi io comunque uso spesso bic classica adesso ho trovato anche bic ultra fine cioè quindi fai anche un sacco comunque di disegni in generale su carta no io preparo tutto 90 per cento i miei lavori preparo su carta quindi prima preparo la mia bozza su carta poi in base al soggetto quindi se faccio magari una composizione floreale che è ciò che mi piace di più ultimamente fare comunque disegno più spesso magari la realizzo freehand oppure riporto tutto su ipad e poi stampo così mi ritrovo meglio magari per dimensionare per fare sì 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 a cosa hai rinunciato no per arrivare magari dove sei adesso comunque ti rapporto ancora agli inizi ed è ok beh si può dire che quando iniziato a tatuare allenavo la sera quindi due sere tre sere settimana finivo alle 11 di fare i vari allenamenti che facevo il secondo quindi mi guadagnavo qualcosa facendo quello ok poi alle 7 ero in cantiere perché mio papà una ditta idraulica e quindi a facevi anche l'idraulico a tempo pieno facevo l'idraulico quando avevo tempo disegnavo e weekend mi prendevo tutto il weekend per tatuare amici chi potevo chi trovavo oppure disegnavo e quindi diciamo che ho speso tutto 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 quello che potevo poi ho iniziato magari avendo magari la fortuna un attimino lavorando con mio papà ovviamente avevo la fortuna che sia mia madre che mio padre erano molto cioè mi hanno lasciato molto fare ti hai lasciato libero di essere te stesso sì 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 mi hanno sempre super sostenuto quindi non mi ha mai bloccato e se magari c'era una giornata mezza vuota e io riuscivo a trovarmi qualcuno da tatuare mi lasciava la giornata e andavo a tatuare ma per quanto riguarda cioè vita sociale nel senso come la gestivi ai tempi e come la gestisci adesso nel senso sei un po libero relazioni dai dici un po di questa vabbè ai tempi ti dico anni fa quando ho iniziato un po a tatuare anzi quando ho ripreso in mano diciamo partiamo proprio da quando ho ripreso in mano a disegnare serio mi ero lasciato con l'amorosa quindi ho preso la palla ho detto torno a disegnare comunque è una cosa che mi rilassa molto e ti sfogavi magari anche esatto 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 da quando ho iniziato a tatuare è sempre stato un casino perché comunque non avevo più realmente non avevo più tempo più zero zero tempo magari capitava uscivo il sabato sera e basta e basta poi le domeniche le passavo comunque o a caso magari se non avevo niente da fare magari uscivo sì però comunque ti dico anche il tempo libero che ora mi attesta sempre sempre lì sempre 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 lì per fortuna questa cosa è diventata un business adesso vabbè si adesso vuoi parlarci un po di come l'hai evoluta perché adesso vabbè sono passato comunque vabbè come tutti lavoravo a casa sono passato a lavorare in studio da i mercenari che è uno studio lì di brescia dal covid comunque è nata un attimo tutta la scena tiktok comunque io ho due sorelle una piccolina una 14 anni e vedevo lei che passava tutto il giorno su sta piattaforma e dicevo che cazzo è sto tiktok e da lì ho detto boh proviamo io comunque facevo più o meno le stesse tra virgolette cose che stavo un po su instagram provavo a portarle su tiktok ho portato ho cominciato a portare magari contenuti su tiktok avevo fatto un video che è arrivato io già su instagram comunque andavo abbastanza bene comunque avevo intorno ai 20 20k 25k già comunque avevo già una bella c'è avevo già un bel seguito diciamo da lì avevo fatto 10k uno dei primi video 10.000 visualizzazioni dicevo storia comunque avevo fatto due o tre mila follower così in giro di niente abbastanza gasato ho incominciato a capire un attimo come funzionava ho provato a portare dei contenuti sono iniziati un po andare e da lì ho cominciato a crescere un po su tiktok poi vabbè quarantena avevo un sacco di tempo libero quindi magari una volta postavo qualcosa sui disegni una volta postavo di qua una volta postavo di là avevo tanto contenuto da postare perché star fermo a casa non ce la faccio assolutamente e da lì è partita da lì è partita comunque un po la scena magari da tiktok tornati a lavorare comunque abbiamo riaperto torno in studio e incomincio comunque a vedere gente che comunque mi prenota da magari mi ricordo che mi ha scioccato una volta una ragazza venuta su da lucca e io comunque non avevo mai tatuato gente al di fuori di brescia magari qualcuno verso milano ma mai al di fuori comunque vedere gente che da lucca che comunque sono tre quattro ore di macchina viene su per tartuarsi da me dico questo tiktok qua è magia e quindi da lì diciamo che avevo un po di soldini da parte un po comunque anche mio padre mi ha aiutato avevo già avevo già preso anni fa un magazzino che aveva uno studio abbiamo separato le due cose ho fatto mi sono ristrutturato tutto da solo per fortuna comunque ho anche tanti amici nel settore sendo che mio papà è idraulico così mi è andato un po la mano e ho rifatto il mio studio must think adesso aperto a settembre dell'anno scorso apertura chiusura comunque vabbè però da lì poi è partito tutto e adesso mi ritrovo giorno sì giorno no gente che si fa un paio d'ore di macchina per venirsi a tatuare quindi tanta 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 roba no e volevo chiederti se avevi qualche altra ambizione prima di cadere nel tatuaggio perché comunque ci ha raccontato che sta un po un percorso avviatosi così mio sogno era combattere e vivere di tai poi ho avuto degli infortuni quindi ci può raccontare un po magari anche la parentesi dell'infortunio se ti va diciamo che più o meno verso l'inizio i primi incontri che ho fatto metà di un match preso una botta quindi ho preso un calcio middle quindi medio altezza media parato messo giù male il piede perché mi è scivolato ho sentito vabbè ho sentito male non parecchio comunque lì adrenalina e quant'altro finito l'incontro rotto il menisco quindi diciamo un ginocchio grosso così cazzo e lì comunque diciamo che è un mondo abbastanza difficile perché comunque o hai degli sponsor abbastanza grossi o comunque gira e rigira di pagarti tutto di tasca tua quindi sono stato fermo da lavoro e poi sono tornato comunque a allenarmi ho ripreso tutto e tutto poi dopo un anno mi si è rotto l'altro menisco che quando ero più piccolo comunque ho fatto un incidente a motorino quindi mi dicono che potrei poteva essere dovuto un po anche a quello quindi rotto l'altro menisco e stavo preparando un europeo e lì ho rosicato parecchio e cazzo ho rosicato parecchio e poi proprio l'ultima l'ultima delle sfighe due settimane dal stavo preparando il mondiale dove andare a fare il mondiale in 2016 in svezia di muay thai sempre in muay thai figa era comunque anche lì si è arrivato bello in alto no sì 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 io quando faccio una cosa la spingo la spingo perché ci metto veramente tutto 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 e da lì diciamo che ho avuto questo infortunio qua che era tipo una sorta di complicanza dovuto al menisco che non so bene comunque mi si era formato una sorta di grumolo di sangue che ho venuto a aspirare così quindi non sono potuto andare a fare il mondiale e ho dovuto pagarmi un sacco di spese quant'altro comunque più che più che guadagno sono sempre state spese perché comunque non ti paga nulla avevo qualche sponsor ma comunque roba da poco c'è non dico sprecavo però ho passato veramente dieta quindi dietologo tagli del peso non c'erano compleanni perché magari c'avevi un match dovevi stare nel peso dovevi stare di qua dovevi stare di là e e quindi una bella sbatta che non il gioco non valeva la candela assolutamente ti hanno praticamente costretto a mollare eh sì anche perché ero arrivato perché ero arrivato a un punto dove combattevo con gente magari anche estera e in tutto il resto del mondo o comunque avevano uno stipendio fisso o comunque avevano sponsor e quant'altro quindi loro guadagnavano e facevano quello io la mattina andavo a lavorare fare l'idraulico esatto facevo 200 rampe di scala perché mio papà si dimenticava di ogni quindi salivo scendevo facevo tutto il giorno a fare l'idraulico finivo uscivo a correre quindi facevo tutti i giorni 5 chilometri più due ore di allenamento di thai si arrivi la sera alle 11 che sei morto cioè morivo io fai conto che magari cenavo a 11 e mezza e andavo a dormire la mattina alle 7 ero sveglio per andare a lavorare questa qua definizione un po di routine che ti stanca sì 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 no ero arrivato a un punto che burnout proprio sì poi dopo l'ultimo infortunio ho detto basta con gli incontri non li faccio più perché mi sono rotto le balle e quindi poi sono tornato comunque avevo sempre un bel rapporto con tutta la palestra quindi do la mano lì è bello il fatto che nonostante tutto quello che stai facendo adesso comunque come diciamo all'inizio hai ancora la voglia e il tempo da dedicare a quello che è la tua passione per le arti marziali quella lì è fondamentale per me un po di sfogo ti ha insegnato autocontrollo a 200.000 sì è un po un testa calda ci vuoi raccontare magari di sì no beh più che testa calda ero proprio il classico ragazzo che se tu non andavo a cercarle ma se qualcuno le cercava ero il primo cioè proprio andavo subito non potevi dirmi due o altre cose andavo subito e sì adesso sei così tranquillo dai adesso totalmente al contrario mentre i primi tatuaggi che magari o che ti hanno fatto ok o magari il riscontro a parte dei genitori vorrei approfondire un po' questa roba qua perché è sempre interessante se ce l'hai magari ancora se li hai coverappati un po' i primi che vabbè il primo che ho fatto è questo ok ce l'hai ancora che è il 23 il numero romano perché sono nato il 23 maggio io e il 23 aprile mio papà e quindi sia io che lui abbiamo tutte e due questo ok un tatuaggio che matcha quindi anche lui ce l'hai fatto esatto ok esatto e questo qua me l'hanno regalato loro adesso non ricordo se per i 14 15 anni ok e quindi prima di questo avevo già un piercing perché avevo un piercing una volta e quindi comunque non ti dico mi hanno spinto però non erano neanche super contrari poi da lì comunque mi sono gasato mi ho cominciato a tatuarmi avevo fatto un filo spinato che mamma mia era fatto male era bellissimo ma era fatto tecnicamente molto male avevo fatto questo ne avevo fatto un altro che ancora che anche avevo fatto un'ancora che mi avevano regalato sempre loro e da lì basta mi fanno adesso basta gli ho detto che andavo a ripassare un tatuaggio mi ricordo era inizio settembre ho detto mamma guarda dopo l'estate mi aveva detto che devo andarlo a ripassare e sono tornato con praticamente mezzo all'ambraccio fatto e lì si sono un po' incazzati però alla fine niente di che sì no li hanno combinate talmente tante in generale che quindi più il tatuaggio meno penso che era proprio il mimo io comunque ci sono andato sempre per pezzi grandi tu invece hai flashed prima di iniziare quello che comunque è stato il tuo body project completo vuoi raccontarci un po' questa roba qua esatto ma allora era iniziato come che ti dico questo tatuatore qua parecchio discutibile perché poi tossico comunque cose che succedono che capitano una volta più di adesso perché una volta comunque ti parlo di 10 anni fa praticamente quindi non c'era instagram non c'era nulla quindi quando conoscevi un tatuatore era quello punto tu andavi in studio e la persona che trovavi era quella lì non potevi avere un'idea della persona magari da altri social o da piattaforme che che sfruttiamo attualmente no che è comunque una grande fortuna che abbiamo vabbè adesso sì e comunque ero partito con questi flashettini stile neotrad sì è abbastanza tradizionale comunque sempre bianco e nero ero partito con questo 23 il filo spinato un'ancorina nera e avevo fatto due rose che erano praticamente il progetto principale del braccio due rose sfumate comunque non old non realistiche una via di mezzo diciamo con un po' di sfumatura che andavano comunque a seguire molto la forma muscolare quindi fatte cioè fighe comunque no 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 era abbastanza sì sì no stava abbastanza bene la parte sopra che poi ha sminchiato un po' tutto perché avevo fatto un teschio messicano sulla praticamente sulla zona del del tricipite poi l'aveva giocata un po' male io volevo un progetto lui ne voleva fare un altro e ha fatto un po' quello che voleva quindi quindi non cioè hai vissuto tu sei uno di quelli che ha vissuto davvero l'esperienza del trattore che ti fa lo sgano praticamente cioè ti fa lo sfregio il mezzo sfregio sì ti dico che avevo delle sfumature l'interno interno brazzo che erano talmente grattate che avevo la sfumatura seghettata ah erano proprio staccate sì 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 è una cosa oscena proprio ma cazzo adesso che comunque fai queste robe qua e ti riesci anche a render conto dei danni che ha fatto uno prima di te prima di iniziare a tatuare mi dava parecchio già fastidio perché comunque andando spesso in studio tattoo comunque sapevo come erano le cose fatte bene iniziando a tatuare ho detto non ce la faccio più totalmente sono successe altre dinamiche e altre cose e ho attribuito diciamo un significato e ho fatto tutto il braccio la manica nera esatto ti ha emozionato la conversazione? se si commenta indicando la parte data preferita inoltre non dimenticare di mettere like di iscriverti al canale e attivare la campanellina trovi i social in descrizione ci vediamo in live ciao 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 Grazie a tutti.